In questi giorni sto un po' lavorando ai preparativi per il campo estivo di Harry Potter che ci sarà a giugno-luglio e mentre cercavo varie informazioni per il test dello smistamento mi sono reso conto di non aver mai trattato effettivamente i quattro fondatori di Hogwarts nei video almeno non ne ho mai fatto uno interamente dedicato a loro mi sembra che avevo fatto qualcosa sulla storia di Hogwarts dove ne ho parlato un pochino ma niente che andasse ad esplorare le loro storie e nel preparare il tutto mi sono accorto che effettivamente alcune di queste storie sono anche parecchi interessanti e tra l'altro ci sono ancora dei posti libri al Magic Camp a entrambi i turni dunque se non vi siete ancora iscritti vi lascio il link in descrizione vi prego non aspettate fino all'ultimo come l'anno scorso e lo so che detto da me che sono un procrastinatore seriale fa un po' ridere ma effettivamente poi diventa un casino pianificare il tutto detto questo cominciamo Stando alle parole del professor Beans, l'insegnante di storia della magia Godric, Helga, Salazar e Priscilla costruirono il castello attorno all'anno 1000 perché potesse essere nascosto dagli occhi indiscreti dei babbani Inizialmente i quattro lavorarono in armonia per rendere Hogwarts esattamente come l'avevano immaginata una roccaforte di magia antica che potesse accogliere tutti i giovani apprendisti desiderosi di apprendere le vie della stregoneria Ma non trascorse molto tempo prima che la visione disturbante che Salazar Serpeverde aveva del mondo magico cominciasse a scavare una crepa che lo avrebbe allontanato dai fondatori per sempre Ma questa è la storia che tutti noi già conosciamo Quali sono invece le singole storie gesta di quattro fondatori di Hogwarts? Grifondoro l'Audace, dalla Brughiera Selvaggia come veniva chiamato abitò a Godric Solo, il quale nome si traduce nella Cava di Godric Molti altri personaggi della saga avrebbero camminato sulle orme del leggendario eroe dalla famiglia Potter ai Silente, arrivando a Batilda Bat, la rinomata storica della magia In maniera simile ai membri della casa da lui fondata Godric era conosciuto per il suo coraggio e per le sue notevoli abilità nel duello magico E non solo in quello magico, dato che si fece forgiare una spada speciale da Ragnuk il primo Il più abile è dunque il loro re, dato che nella cultura Goblin il re non è colui che lavora meno degli altri, ma in maniera quanto più abile La spada era un capolavoro unico nel suo genere, risplendente come l'argento e adornata con rubini grandi come uova, intrisa di proprietà magiche uniche, una manifattura di così alto pregio che lo stesso Ragnuk arriva a bramarla anche dopo averla consegnata al suo legittimo proprietario La rivoleva indietro a tutti i costi, al punto di spargere la voce di un presunto furto da parte di Godric, il quale era in realtà un viscido ladro e arrivando ad inviare i suoi servi a rubarla Godric non aveva intenzione di cedere all'arma che era sua di diritto e si difese con la propria bacchetta, ma senza uccidere i suoi assalitori Si limitò a stregarli e a mandarli indietro dal loro re per riferire la sua minaccia Se Ragnuk avesse tentato ancora una volta di derubarlo avrebbe sguainato la spada contro di loro Il re dei Goblin prese molto sul serio la minaccia di Grifondoro e non osò mai più disturbarlo anche se il risentimento covò nel suo cuore fino alla fine dei suoi giorni Su queste fondamenta sarebbe stata costruita la falsa leggenda che vedeva Grifondoro come un ladro, come un traditore dei Goblin, leggenda che ancora persiste in alcune comunità dei Goblin Non è per nulla strano che Grifondoro, così come altri maghi dell'epoca, fossero abili nel combattimento con la spada. Potrebbe sorgere naturale chiedersi perché mai un mago avrebbe bisogno di una spada, ma è presto detto. Nei tempi priori all'introduzione dello statuto internazionale di segretezza, quando i maghi e i babbani vivevano fianco a fianco, erano soliti usare le spade per difendersi tanto quanto le bacchette. Era anzi considerato antisportivo usare una bacchetta contro una spada babbana. Molti grandi maghi dell'epoca erano anche dei duellanti esperti nel senso convenzionale del termine e Grifondoro era, ovviamente, uno di questi. Secondo la leggenda, a Godric apparteneva anche il cappello parlante, un indumento senziente che si occupò di smistare gli studenti della scuola nelle quattro case una volta che i fondatori morirono. Il cappello era stato infatti incantato con l'intelligenza di tutti i fondatori, così che potesse esercitare il proprio arbitrio allo stesso modo dei quattro. Godric Grifondoro sarà sempre ricordato per le sue grandi abilità in combattimento, per il suo coraggio leggendario e per la sua lotta contro la discriminazione babbana nel mondo magico. Fu proprio questo argomento al centro dello scontro tra Godric e Salazar e che poi avrebbe allontanato Serpeverde per sempre dal castello. Godric Grifondoro era certamente un uomo in anticipo sui tempi. Elga Tassorosso, dalla larga vallata, fu la fondatrice della casa che più di tutte stimava la giustizia e la lealtà. Stando alle parole del cappello parlante, Elga giurò di insegnare le masse e non faceva alcuna distinzione tra uno studente e l'altro. Non le importava quanto talento potessero avere o meno o da quali famiglie provenissero. Ad Hogwarts, Elga era conosciuta per le sue grandi doti in incantesimi e usava le sue sorprendenti abilità nel preparare il cibo, una sua specialità, per creare degli splendidi banchetti amati da tutti quanti. Il suo talento era ciò che più di ogni altra cosa univa all'intera scuola d'armonia. Le fantastiche ricette di Elga sono usate ancora oggi nelle cucine di Hogwarts e il suo ritratto si può ammirare nella sala comune di Tassorosso, mentre brinda ai suoi studenti con una coppa dorata. Quest'ultima venne trasmessa da un suo discendente all'altro, arrivando infine tra le mani di una certa Hepzibut Smith, una lontana parente con un'inclinazione particolare verso i gingilli di valore. Per sfortuna di Elga, quando Tom Riddle si impadronì della coppa, decise di trasformarla in uno dei suoi Horcrux, una scelta che lei sicuramente non avrebbe apprezzato particolarmente. Priscilla Corvo Nero, dalla Valle Stretta, fu la strega più brillante del suo tempo, ma la sua è una storia di tragedia. Conosciuta per la sua arguzia e il suo amore per l'apprendimento, indossava un diadema che, secondo la leggenda, conferiva una grande saggezza a chi lo indossava. Tuttavia, la stessa figlia di Priscilla cominciò ad essere gelosa dell'incredibile intelligenza della madre. Elena rubò così il diadema e scappò via, abbandonando Hogwarts una volta per tutte. Priscilla si vergognò a tal punto di questo gesto, dandosi la colpa per aver causato la fuga della figlia, da mantenere il segreto dagli altri fondatori, persino quando si ammalò gravemente. Disperata, desiderando rivedere la figlia per un'ultima volta, Priscilla inviò un uomo a cercare Elena per riportarla a casa. Sfortunatamente, quell'uomo era il barone sanguinario, il quale era follemente innamorato di Elena e, quando questa si rifiutò di tornare a Hogwarts, la pugnalò in un impeto di rabbia. Secondo la leggenda, quando Priscilla apprese la notizia della sorte della figlia, morì di crepacuore. Non c'è dunque da stupirsi se il fantasma di Elena, diventato successivamente il fantasma della casa di Corvo Nero, si sarebbe limitato a vagare per i corridoi di Hogwarts in silenzio per l'eternità. E seppure per molti anni l'armonia regnò sovrana ad Hogwarts, eventualmente comparvero anche le complicazioni. Quando Salazar Serpeverde, dalla palude, dichiarò che soltanto coloro che provenivano da famiglie magiche e puro sangue dovessero avere diritto all'istruzione Hogwarts, i suoi tre migliori amici si opposero. Ne nacque un dibattito acceso, in cui Grifondoro fece prevalere i suoi ideali contro la discriminazione dei babbani, che anche le due fondatrici supportavano appieno. Salazar, non riuscendo ad accettare la visione degli altri, lasciò la scuola, ma non prima di aver lasciato il suo marchio, costruendo una stanza segreta all'interno del castello, con una grande statua che lo ritraeva e un mostro che soltanto lui poteva controllare. La stanza, sarebbe rimasta segreta fino a che il suo degno erede non sarebbe giunto a Hogwarts, pronto a finire il lavoro del suo predecessore. Della Camera dei Segreti ci sarebbe da parlare a lungo, ma questo forse sarà un argomento per un altro video. Serpeverde lasciò anche un medaglione d'oro, che sarebbe diventato un cimelio di famiglia assai prezioso, ed infine uno degli Horcrux di Lord Voldemort. Nonostante le sue lacune, Salazar era innegabilmente un mago di grande talento, abile nella Leggilimanzia e nel Serpentese, e il suo talento venne trasmesso lungo la sua discendenza contorta a molti membri della sua linea di sangue, soprattutto a Lord Voldemort. Ma non l'intera linea di Serpeverde fu malvagia. Una discendente assai lontana, Isotta Sire, sarebbe diventata la fondatrice della scuola di magia e stregoneria di Ilvermorn in America, e la bacchetta di Salazar venne infine seppellita nel terreno della scuola, dove crebbe in un albero le cui foglie erano dotate di poteri curativi. E se per caso foste interessati a scoprire di più sull'affascinante storia della fondazione di Ilvermorn, vi lascio nelle schede il video dove ne esploro il racconto nel dettaglio. E con questo si conclude la storia dei quattro fondatori di Hogwarts, almeno quello che sappiamo fino a questo punto, in quanto io come un po' tutti quanti ancora spero in un possibile spin-off sui quattro fondatori, o anche soltanto un racconto più esteso che ci racconti delle loro geste di quella che era effettivamente la Hogwarts dell'anno 1000. Anche andando a trattare un po' più nel dettaglio della stessa fondazione, un po' come la Rowling ha già fatto con la scuola di magia e stregoneria di Ilvermorn, quella in Nord America. È una storia così affascinante ma al contempo così pregna di mistero, dato che non sappiamo praticamente nulla, il che mi ha portato sempre a stupirmi del fatto che la Rowling non abbia mai rilasciato ulteriori informazioni su quest'epoca, nonostante abbia continuato ad ampliare tutto il resto nel corso degli anni. Voglio dire sì, la storia del Makusa è molto interessante, ok, però dammi... ritorno un po' alle origini, dammi le cose che davvero mi interessano. Ma sono davvero sicuro che in futuro, probabilmente una volta terminata la saga di Animali Fantastici, si andranno ad esplorare anche altre storie e quindi forse finalmente andremo a trattare anche di questa benedetta storia dei fondatori. Prima di lasciarvi voglio ricordarvi la collaborazione con Pampling, dunque se volete procurarvi questa maglietta o queste altre due che vi sto mostrando in sovrappressione, trovate il link in descrizione. Usando il codice CAELOTTO avrete uno sconto del 15%. Inoltre vi invito caldamente a seguirmi sulla mia pagina Instagram, così potete rimanere aggiornati su tutti gli eventi che sto facendo in questo periodo e sul mio lavoro in generale per avere una marcia in più. Ma per ora da me è tutto, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!